La prima aprezione! Tutto è pronto! Io e il Dio Giuseppe Forga poi sarà lo scatto e la partenza in due giri. Comincerebbe da Andrea Lucica che è quello che si gira nella prestazione e poi è evidente se orzerà. Il giro della giro a passare la via! Grazie a tutti. Grazie a tutti.